La tecnologia rinnovabili a volte ci risuona nella testa questo mantra che le tecnologie rinnovabili possono registrare soltanto in un sistema di incentivazione. In realtà ormai non è quasi più vero. Adesso quest'estate c'è stata l'approvazione definitiva della centrale nucleare di Hinkley Point in Gran Bretagna e l'approvazione è stata data offrendo al gestore dell'impianto un prezzo garantito di 92 sterline al megawattora garantito per 35 anni. Nello stesso momento, più o meno nello stesso tempo, veniva approvato dal governo olandese il piano per un campo eolico offshore che garantiva... Offshore ricordiamo che è in mare. Sì, offshore vuol dire in mare, lontano dal... che veniva costruito a fronte di un prezzo garantito di 72 euro per megawattora. Invece il nucleare era? Il nucleare era 92 sterline. Quindi stiamo parlando di un confronto tra circa... adesso non so quant'è la sterline esattamente ma siamo 130 euro contro 75. Ma perché ad esempio il fotovoltaico ha emissioni di CO2? Perché qui siamo estremamente conservativi, qui stiamo mettendo tutto proprio nel conto, comprese le emissioni che vengono fatte nel momento in cui lei produce, installa il pannello, lo trasporta, lo smaltisce eccetera eccetera. Qui ci sono emissioni di CO2 proprio perché in realtà non ci sono ancora molti rinnovabili. Io sono rimasto che i pannelli solari avevano un'efficienza del 14%. Oggi siamo... Siamo un po' più alti ma non tantissimo più alti. Alla fine in realtà poi l'efficienza è tutto sommato anche un parametro relativo perché è vero che è meglio fare pannelli solari in generale più piccoli, però è anche vero che generalmente non è la mancanza di spazio che limita il pannello solare. Lei è dell'idea che possiamo arrivare a eliminare completamente i combustibili fossili per produrre energia elettrica o dobbiamo arrivare a quello che si sta facendo, cioè una diversificazione ovviamente diminuendo il più possibile? Guardi, sinceramente non penso che questo succederà nell'arco dei prossimi decenni. diciamo l'obiettivo di raggiungere obiettivi come appunto il 27% nel 2030, andare oltre eccetera. In linea di principio non c'è nulla che impedisca questa... cioè diciamo le risorse ci sono, la tecnologia si sta sviluppando, bisogna stare un po' attenti a non fare alcuni errori, tipo per esempio stare troppo... non sostituire troppi fossili per esempio con il legno delle foreste, per dire che sono comunque risorse che sono sì rinnovabili ma hanno anche altri aspetti di servizi, sono custodi della biodiversità eccetera. Grazie.